La Regione Abruzzo qualche anno fa fece un corso per esperti di videoripresa e cine ripresa, diciamo. Oggi con questo progetto si dà un finanziamento ad un centro innovativo, giovanile, nel comune di Spoltore, per cui abbiamo partner il comune di Spoltore, ma anche l'associazione Tiziana Fagnani e l'azienda Prometheus Evans. Di fatto promuoveranno con i fondi di Abruzzo Giovane un concorso per i video amatori che hanno fatto il corso precedentemente, che poi sarà sui temi sociali, che poi sarà promosso nelle principali reti abruzzesi. Quindi dalla teoria si passa alla pratica. Allora, nel mio assessorato c'è la delega ai giovani, stiamo per far partire un altro bando da dare ai comuni, sempre ai comuni, per aprire centri giovanili. È un bando con pochi soldi, perché il governo non ce ne ha dati tantissimi, sono 174 mila, ma che daremo appunto a disposizione dei comuni per far sì che esperienze del genere possano essere sostenute sempre di più. Un altro progetto per i giovani è quello dell'Aquila. Sono stati fermi per anni i fondi dati dalla Meloni per ristrutturare un centro giovanile all'Aquila. Abbiamo rimesso in moto il comune dell'Aquila, che presto ci presenterà il progetto, e quindi anche lì un altro centro sociale. Insomma, i ragazzi hanno all'interno delle città, sia grandi che soprattutto piccole, hanno poche opportunità di incontro. Ci sono pochi centri sociali e stiamo cercando, con questi piccoli progetti, con questi piccoli grandi progetti, di poter far sì che anche loro possano avere una città a misura di adolescente.